Signor Sindaco c'è un compleanno importante per Ventimiglia, 150 anni della creazione dei Giardini Emburi, un simbolo non solo per la città di confine ma per tutto il territorio, anche un richiamo di studio e di turismo. Senz'altro sì, sono 150 anni importantissimi per noi e abbiamo voluto insieme all'Università degli Studi di Genova e all'Associazione Amici dei Giardini Emburi ricordare e omaggiare questo anniversario. In particolar modo noi come città di Ventimiglia lo facciamo anche in onore di Thomas Emburi che tanto ha fatto per la nostra città. È una perla nel Mediterraneo quindi è un'occasione buona per farli conoscere anche fuori. Una collaborazione con l'Università naturalmente che va avanti, una gestione importante anche dal punto di vista culturale indubbiamente. Sì, questo è uno dei contenuti, il discorso culturale ma anche quello turistico sono le due caratteristiche principali di questo meraviglioso giardino. Quindi col programma che presentiamo al pubblico si vuole maggiormente diffondere questi contenuti. Secondo me i 150 anni e questo calendario possono essere un'ottima occasione per tutta la nostra cittadinanza, veligure, italiana e non solo, di gustare, provare e godere questa bellezza.